ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco acido orso desossicolico e g e gs p a società del gruppo stad arzma imita e laggi ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa acido orso desossicolico e g confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere acido orso desossicolico e g durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa acido orso desossicolico e g acido orso desossicolico e g a un farmaco a base del principio attivo acido orso desossicolico appartenente alla categoria degli acidi biliari e nello specifico acidi biliari e derivati e commercializzato in italia dall'azienda e g spa società del gruppo stadard maimitta e laggi acido orso desossicolico e g può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni acido orso desossicolico e g 300 mg 20 capsule acido orso desossicolico e g 450 mg 20 compresse a rilascio prolungato informazioni commerciali sulla prescrizione titolare e g spa società del gruppo stadard maimitta e laggi ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo acido orso desossicolico gruppo terapeutico acidi biliari forma farmaceutica compressa rilascio modificato indicazioni calcolosi biliare colesterolica con calcoli radiotrasparenti nella colecisti e nel coledoco alterazioni quali quantitative nella secrezione biliare con produzione di bile sovra satura di colesterolo dispepsie biliari posologia capsule da 300 mg nell'uso prolungato per ridurre le caratteristiche fitogene della bile la posologia media giornaliera di 5 10 mg barra chilogrammi nella maggior parte dei casi la posologia giornaliera risulta compresa fra 300 e 600 mg al giorno dopo o durante i pasti nelle sindrome di speptiche e nelle terapie di mantenimento sono sufficienti e dosi di 300 mg al giorno le dosi possono essere modificate a giudizio del medico compresse a rilascio controllato da 450 mg la posologia abituale nell'uso prolungato ad 450 mg al giorno nei pazienti obesi e in quelli con calcoli superiori ai due centimetri di diametro a opportuno elevare il dosaggio nelle sindrome di speptiche e nelle terapie di mantenimento sono sufficienti e dosi minori comunque l'ottima tolerabilità del preparato consente al medico variazioni di dosaggio anche sensibilmente più elevate la somministrazione di acido urso desossicolico a rilascio prolungato va effettuata in un'unica assunzione serale preferibilmente al momento di coricarsi la durata del trattamento per mantenere le condizioni idonee allo scioglimento dei calcoli deve essere di almeno 46 mesi fino anche a 9 mesi o più a ininterrottamente e deve essere proseguita per 3 4 mesi dopo la scomparsa radiologica o decografica dei calcoli stessi il trattamento non deve comunque superare i due anni controindicazioni acido urso desossicolico non deve essere utilizzato in pazienti affetti da a ipersensibilità agli acidi biliari ad uno qualsiasi degli eccipienti b infiammazione acuta della colecisti o delle vie biliari c occlusione delle vie biliari occlusione del dotto biliare comune o cistico di coliche biliari frequenti e calcoli calcificati radio parchi f ridotta motilità della colecisti iteriostruttivi e patopatie gravi ulcera gastrica o duodenale in fase attiva gradivanza allattamento e in età pediatrica pazienti con gravi alterazioni pancreatiche o con affezioni intestinali che possono alterare la circolazione enteroepatica degli acidi biliari avvertenze speciali e precauzione di impiego acido urso desossicolico deve essere assunto sotto controllo medico durante i primi tre mesi di trattamento i parametri di funzionalità epatica ast scott alt sgpt e ggt devono essere monitorati dal vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione acido urso desossicolico non deve essere cosomministrato con colestiramina colestipolo o antiacidi contenenti idrossido di alluminio e barra osmectite ossido di alluminio poi cale guano l'acido urso desossicolico nell'intestino e ne inibiscono l'assorbimento e vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere acido urso desossicolico e g durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere acido urso desossicolico e g durante la gravidanza e l'allattamento studi negli animali non mostrano un'influenza dell'acido urso desossicolico sulla fertilità non sono disponibili dati relativi all'influenza dell'acido urso desossicolico sulla fertilità nell'uomo vi sono dati limitati riguardanti l'uso dell'acido urso desossicolico nelle vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari acido urso desossicolico e g non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari effetti indesiderati per la classificazione delle frequenze degli effetti indesiderati è stata usata la seguente convenzione molto comune a 0 yen un decimo comune a 0 yen un centesimo ma un decimo non comune a 0 yen 1 1 0 0 0 0 ma vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio in caso di sovradosaggio può manifestarsi diarrea in generale altri sintomi di sovradosaggio sono improbabili poi ca l'assorbimento dell'acido urso desossicolico diminuisce con l'aumentare della dose e quindi viene maggiormente escreto con le feci non sono necessarie contro misure specifiche e le conseguenze della diarrea devono essere trattate sintomaticamente con reintegrazione di fluidi e della euro equilibrio elettrolitico non sono conosciuti casi di sovradosaggio oltre 4 g al giorno dose questa risultata ben tollerata in caso di ingestione accidentale di acido urso desossicolico in dosi altamente superiori si suggerisce di porre in atto i normali provvedimenti consigliati nella patologia da intossicazione e somministrare colestiramina in quanto capace di chelare gli acidi biliari informazioni aggiuntive su popolazioni speciali la terapia con acido urso desossicolico ad alte dosi a lungo termine 28 30 mg bar a chilogrammi bar a die in pazienti con colangite sclerosante primaria uso of label ha stata associata ad un'incidenza maggiore di eventi avversi gravi proprietà farmacodinamiche categorie farmaco terapeutica preparati a base di acidi biliari codice atc a 0 5 a 0 2 l'acido urso desossicolico rappresenta il 7 axepimero dell'acido cheno desossicolico e da un acido biliare presente fisiologicamente nella bile umana dove rappresenta proprietà farmacocinetiche dopo somministrazione orale l'acido urso desossicolico viene facilmente assorbito a livello intestinale captato dal fegato e descreto nella bile in forma prevalentemente glico coniugata entrando cosa nel circolo entero epatico esso viene parzialmente metabolizzato dati preclinici di sicurezza l'acido urso desossicolico presenta i vantaggi di una ridotta formazione di litocolato considerato tossico nell'animale da esperimento nell'uomo impegna i processi di solfatazione dell'assenza di aumenti delle transaminasi seriche anche in elenco degli eccipienti capsula rigide da 300 mg amido di mais silice precipitata magnesio sterato composizione della capsula gelatina titanio di ossido e 171 ossido di ferro giallo e 172 compresse a rilascio prolungato da 450 farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di acido urso desossicolico e g a base di acido urso desossicolico sono acido urso desossicolico aristo acido urso desossicolico doc generici capsula acido urso desossicolico doc generici capsula rilascio modificato acido urso desossicolico milan generics acido urso desossicolico colico ratio farm de sux il compressa de sux il compressa rilascio modificato de urs il capsula de urs il capsula rilascio modificato fraurs lit of litur sol urdes compressa urdes compressa gastro resistente ursilon ursilon retard ursob il ursobile ht ursoflor ursoflor r ursulisin fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato